Buongiorno, io sono Sento poco ma sento. Oggi vi racconterò la storia del mio paese. Il mio paese è un paese agricolo, che si sta a otto chilometri vicino al mare. Otto chilometri? E' molto vicino. Noi quando eravamo piccolini, con la bicicletta andavamo al mare, tutti i miei amici. E vi divertivate? Andavamo al mare, prendevamo i bagni e poi tornavamo a casa. Era molto grande questo paese? Allora facevo 9000 abitanti, ma adesso no. Non lo sa adesso. Adesso farà 30.000. Però? Adesso è grande il paese. Si è allargato? E certo. E mi dica, era molto industrializzato il suo paese? No, era agricolo. Solo agricolo? Era un paese agricolo. E' passato pure Mussolini da lì? Sì, anche Benito Mussolini venne dal mio paese. Allora quando è venuto dal mio paese, una signora fa, ma chi è questo Mussolini? Ma chi è? Lui si alza dalla macchina e dice, sono io. E tutti sbalorditi? Eh, la signora è rimasta impressa, è rimasta. Ma si chiamava già così da un tempo oppure gli hanno cambiato il nome? Ma no, sai bene da Mussolini. Poi ci hanno detto il Duce. Si chiama Villa Literno il paese, giusto? Sì. Prima si chiamava Vico di Pantano. Vico di Pantano? Sì. Poi Mussolini ha messo la Villa Literno. Perché c'era una villa? No, perché dice, era un paese che sembrava era bello, era un paese bello. Molto bello? Un po' bello. Era abbastanza, dice, un paese vicino al mare. Qua vico di Pantano, un Pantano. E ci dica cosa c'era di interessante al suo paese? Nel mio paese c'è molta cultura delle pomodoro. Una cultura grande di pomodoro? Sì, sì. Fanno tanto di quei pomodori. Capito. Grazie mille, signor Sento Poco Ma Sento. Arrivederci. Arrivederci.